allora inizio oggi con due avvisi uno l'avete già visto sul gruppo telegram e l'altro invece è nuovo allora primo avviso è riguardo ai tutorati quindi sono partiti anche i tutorati 28 ottobre quindi oggi sono partiti anche i tutorati di informatica che si svolgeranno in queste fasce orarie come vedete ci sono quattro slot settimanali che andranno avanti da oggi fino al 10 gennaio attraverso i quali troverete quattro persone diciamo così diverse quattro studenti un po' più signori di voi che vi possono aiutare nel rivedere teorie esercizi e quant'altro sono stati posizionati in modo da essere non sovrapposti con i vari tipi di calendari di orari settimanali in particolare diciamo così il tutorato che è stato pensato per il nostro gruppo di corsi è quello giallo ok ma in realtà non c'è un vincolo nel senso che voi potete andare nella fascia oraria che preferite ok tendenzialmente quello giallo è pensato per il blocco di corsi centrali dove ci sono informatici elettronici materiali eccetera eccetera ma non c'è questo vincolo quindi potete organizzare vi è piacere questo è un'aula 5n quest'altro è un'aula 5n quello rosa quello verde in aula e quello azzurro sono nelle aule dell'istituto sommelier al terzo piano quindi l'istituto sommelier basta che voi uscite di qua salite dello scalone a fianco a sinistra salite al terzo piano ci sono delle aulette che di giorno al mattino sono usate dall'istituto tecnico al pomeriggio invece sono usate dal politecnico c'è un accordo di scambio di questo genere in più esistono dei canali telegram che sono quelli indicati qua sotto ma se aprite telegram ci sono i link diretti così non dovete andare inquadrare in qr code che sono pensati per gli avvisi da parte dei borsisti di quelle del tutorato quindi se vi interessano i tutorati lì poi i tutori vi daranno informazioni magari condiviscono soluzioni o quant'altro facciano all'interno di quelle ore di tutorato ok quindi da qua fino alla fine delle lezioni 10 gennaio poi si vedrà man mano vi aggiorneremo anche per il secondo periodo didattico poi ci sono altri tutelati ma diciamo che questi sono pensati soprattutto per chi sta seguendo il corso adesso e dalla l'esame nei primi appelli il consiglio è di sfruttare questa opportunità quindi passate di lì sono vostri compagni con cui radunare a far vedere cosa avete fatto o chiedere cosa non avete capito l'altra comunicazione è invece sempre parlando gli esami è relativa alla famosa prova in itinere di cui avevamo accennato qualche cosa all'inizio del corso io vado a riprendere leggermente modificata la slide che avevamo visto nella prima lezione abbiamo fissato per la prova in itinere di informatica il 20 e il 21 novembre che la settimana prima di chimica così non si hanno troppo da cavallare la nostra è molto più semplice di quella di chimica nel senso che lo faremo nelle ore di laboratorio normalmente quindi non prendiamo ore extra sabati domeniche o cose strane e consisterà in una breve prova di 30 minuti ok 30 minuti in cui ci saranno quattro esercizietti di due domande di teoria e due domande di python che sono divise in due blocchi diversi nel senso che le due domande di teoria voi sapete che all'esame vero avrete tre domande di teoria che sono una sulla parte dei numeri ciò che abbiamo finito la volta scorsa una sulla parte di architetture che cominceremo oggi appena finisco di parlare di queste cose e tre sulla tra virgolette teoria che sta dietro alla programmazione in python sono queste tre domandine che all'esame ci saranno sempre tutti appelli che valgono sei punti complessivamente allora nella prova in itinere faremo tre domande dello stesso tipo che varranno anch'esse fino a sei punti due 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 ok punti negativi non li diamo queste due domande di teoria e una esercizio barra domandina di python sono cose veramente da breve risposta vi danno un punteggio quindi quando correggeremo vi danno un punteggio che potete scegliere se utilizzare all'esame quindi cosa vuol dire in pratica che all'esame avrete tre domande di teoria se avete fatto la prova intermedia avete preso un punteggio che vi piace a quelle domande di teoria all'esame non rispondete vi tenete buoni portate diciamo così sulle spalle il punteggio che avete preso nella prova in itinere e quindi in pratica all'esame se fate questo giochino avrete più tempo a disposizione per svolgere il programma l'esame ci sarà 90 minuti un'ora e mezza se avete un punteggio che vi piace dalla teoria avete tutta un'ora e mezza interamente del programma altrimenti quell'ora e mezza dovete giocare tra le domandine di teoria paro domandine poi vi faccio anche vedere quali sono non quali sono quelle d'esame quelle passate poi quindi questo è il primo pacchetto di tre domande poi un esercizietto invece di python un pochino più non dico avanzato ma scrivere il codice quindi questo è il primo esercizio di python di solito sono domande di spiegazione dimmi cosa fa con una determinata operazione o come si usa una certa struttura dati mentre invece il punto b è un esercizio in cui dovete scrivere del codice ma stiamo parlando di 5 8 10 righe ecco un frammentino di codice che faccia una certa operazione che vi diciamo quest'altro esercizio che sarà della difficoltà essenzialmente dei laboratori a quell'epoca lì avremmo già fatto le liste in pratica quindi sarà tendenzialmente un esercizio su liste e stringhe messe insieme e cicli vi darà fino a tre punti fino a quindi a 0 a 3 che si andranno a sommare al voto di esame quindi i primi sei punti sono in sostituzione delle domande di teoria tra l'altro ho tutto o niente che non potete dire la prima domanda rispondo la seconda prende quella zona no no è un paio a pacchetto ho tutto o niente e poi fino a tre punti per l'esercizio che avrete fatto di programmazione quando dico le domande di esame voi se andate sulla pagina del corso fammela trovare dove c'è scritto repository github del materiale c'è questa pagina in cui spero siate già andati a finire dove c'è a un certo punto testi d'esame e esercizi di preparazione dell'esame se andate su questo testi d'esame ci sono tutti gli esami passati divisi sulla parte di programmazione sono divisi per appello quindi questi sono i programmi da fare all'esame adesso gli ultimi appelli non ancora caricati ma ci sono tutti quelli degli ultimi anni per quanto riguarda invece le domande di teoria sono in fondo in fondo esercizi su sistemi di numerazione esercizi sull'architettura degli laboratori esercizi sulla programmazione in python le tre domande di teoria che ci sono in esame sono qui quindi se voi prendete uno qualunque di questi trovate ad esempio sui sistemi di numerazione trovate quante sono? 70 e più domandine che sono quelle che abbiamo dato nei vari appelli dei vari corsi ecco non solamente quelle che sono capitate nel nostro corso e quindi qui abbiamo il database completo quindi se qualcuno ve lo vuole vendere vi sta fregando perché lo pubblichiamo così gratis il database completo di tutte le domande di teoria d'esame e quindi sono della stessa difficoltà di quelle che vi troverete anche nella prova in itinere e vi troverete all'esame con la differenza l'unica differenza che gli esercizi sulla programmazione in python vi chiederanno anche cose che in python non avremo ancora fatto mentre invece per quanto riguarda, e quindi non tutte sono fattibili da voi al 20-21 di novembre mentre invece quelle sulla numerazione, sugli laboratori, sull'architettura invece sì quindi per quella parte del programma la svolgiamo prima di quella data ok? poi io di solito facevo sempre l'ultima settimana di lezione, quella che chiamavo una maratona di esercizi facevo tre lezioni online in cui a tappeto risolvevo esercizi così per vederli un po' e qui ci sono le registrazioni di queste maratone degli ultimi anni ogni anno registro gli ultimi esercizi perché sono quelli che sono usciti nell'anno in corso per avere un po' di varietà, se volete avere un'idea quindi questo anche per aiutarvi a prepararvi poi faremo nei giorni direttamente antecedenti all'esame abbiamo fatto uno scambio di ore con chimica in modo che lunedì prima dell'esonero facciamo informatica nell'ora di chimica così facciamo un po' di ripasso in vista della prova in itinere e la settimana dopo invece cediamo le ore di informatica alla docente di chimica in modo che voi possiate a questo punto rinforzare la preparazione per l'esonero della settimana successiva acrobazie di questo genere ma poi ve le scriviamo bene sul calendario in pratica come funziona? funzionerà che voi andrete in laboratorio e vi ho divisi siamo circa 300 e ho provato di questo volpe lo metto sul gruppo lo ho finito pochi minuti fa a gruppi di 50 circa la prova dura 30 minuti qui ci sono degli slot di 45 minuti quindi il laboratorio di un'ora e mezza l'abbiamo diviso in due blocchi in due metà di 45 minuti ciascuna quindi 30 minuti per fare il compito 15 minuti per andare a uscire diciamo così dovremo starcela dovremo farcela e quindi siete divisi a gruppi di massimo 50 persone 50 persone pensando alle 303 persone attualmente iscritte al corso poi probabilmente non tutti verranno quindi riusciremo tranquillamente nell'aula 3D quella del laboratorio a starci tutti comodamente ok? non chiedetemi di far scambio perché capite che con i tempi scambio di turno perché capite che con i tempi contingentati che abbiamo di questo genere non possiamo permetterci quindi magari ci avete una sovrapposizione allora scambiate la situazione di qualche cos'altro rispetto a questa divisione ok? abbiamo tempo poi più avanti anche di mettersi d'accordo meglio sulla logistica gli esercizi saranno da fare a PC quindi sulla piattaforma Moodle senza non ci sarà per le parti anche per le domande di Python non ci sarà il Visual Studio Code ma semplicemente una finestra di testo in cui scrivere il codice perché veramente sono poche righe semplicemente lo facciamo online su Moodle anziché su carta per facilità logistica e di gestione però sono domande di questo genere diversamente dall'esame invece in cui ci sarà proprio l'ambiente di sviluppo ma lo vedremo più avanti ok? ok questo per quanto riguarda gli avvisi vediamo invece se non ci sono domande all'altro argomento che è oggetto della domanda numero 2 di teoria che è quello sull'architettura degli laboratori cioè noi abbiamo visto finora più o meno con i numeri binari che si potevano rappresentare delle informazioni ci siamo sparticati soprattutto sulle informazioni numeriche poi magari riuscirò a dedicare anche un attimo di tempo alle informazioni non numeriche più avanti e abbiamo imparato a mano per dire a fare dei conti adesso il sapere fare dei conti a mano con i numeri binari va bene ma poi il calcolatore come fa a farli come funziona dentro come è organizzato il suo interno questo è il tempo è il tema di questo argomento conoscere a grandi linee quali sono le parti di cui è composto il calcolatore e soprattutto qual è il principio di funzionamento essenziale se vogliamo è la versione iper semplificata e riassunta di quello che è il corso di calcolatori elettronici che qualcuno di voi farà più avanti allora visto anche intuitivamente dal modo in cui abbiamo imparato a programmare in Python capiamo che alla fine il calcolatore dentro deve avere un po' di memoria cioè dello spazio in cui vanno a finire le variabili che definiamo i dati che inseriamo i calcoli i risultati dei calcoli che facciamo e qualche cosa che sia in grado di eseguire le istruzioni che poi non saranno le istruzioni in Python ma concettualmente la stessa cosa che sia in grado di fare i calcoli perché quando io scrivo A uguale B più C va bene ci vuole lo spazio di memoria per memorizzare il valore corrente di B lo spazio di memoria per memorizzare il valore corrente di C lo spazio di memoria in cui andrò a memorizzare la nuova variabile A che sto creando ma poi ci vuole qualcuno che dica che bisogna fare questa somma bisogna prendere questi valori bisogna salvarli in quegli spazi e questo è questo blocco che qua è chiamato unità di elaborazione quindi qualunque cosa il collatore faccia coinvolge sempre dei dati che sono dentro qualche tipo di memoria però lo usiamo come termine generale poi lo vedremo meglio e questi dati vengono elaborati sommati sottratti confrontati moltiplicati eccetera da una unità di elaborazione che è quella che sa fare le operazioni quindi da una parte ho i dati dall'altra ho chi li sa usare e questo è il cuore del calcolatore lavora puramente in mondo digitale con i bit 0,1 eccetera ovviamente il calcolatore per poter fare qualcosa di utile non deve esistere separato dall'universo ma deve interfacciarsi in qualche modo con il resto dell'ambiente l'ambiente nel caso semplice di un personal computer siamo noi che per fornire i dati in input siamo costretti a usare il mouse la tastiera il microfono che sono tutte periferiche unità del mondo analogico del mondo fisico che collegate al computer permettono al computer di acquisire dell'informazione dei dati e analogamente per vedere i risultati di queste elaborazioni avremo bisogno di uno schermo una stampante qualcosa che mi faccia vedere o sentire il valore del calcolo svolto quindi l'unità di ingresso l'unità di uscita non servono al computer servono gli utilizzatori del computer per poter introdurre i dati da qualche parte e vedere risultati da qualche altra parte fino a quando non avremo una porta usb direttamente piantata dentro o quello che sarà avremo bisogno di interfacce tra il mondo analogico in cui viviamo e il mondo digitale in cui invece vive il calcolatore però questi se vogliamo sono dei blocchi che trasferiscono informazioni il vero lavoro avviene dentro avviene dentro il calcolatore ovviamente il lavoro che devono fare tutte queste interfacce è un lavoro soprattutto di conversione di dati da un certo formato a un formato diverso mentre invece questo lo possiamo capire o immaginare ma soprattutto la parte che ci interessa di più è la parte digitale che contiene il cosiddetto microprocessore e tutta la logica che sta intorno cioè la parte che è in grado di fare i calcoli questo è un po' doppio scusate e ovviamente la parte di calcolo come dicevamo prima si aggancia alla parte di memoria io non so perché ok allora vediamo l'interno di questa figura e il componente principale di qualunque il sistema di elaborazione il cuore in cui avvengono praticamente tutte le elaborazioni è il microprocessore che è un circuito che ha delle dimensioni minori di 1x1 cm minore di 1 cm2 poi magari dentro di una scatolina un pochino più grande tipo 3 cmx3 cm ma questo semplicemente per l'esigenza di avere il numero di contatti di fili di piedini di contatto elettrico quindi tutto il calcolatore alla fine è una scheggia un'unghia grande come un'unghia è quello il vero calcolatore tutto il resto è roba che serve per portargli i dati per portare fuori i dati per memorizzare per alimentarlo per raffreddarlo eccetera eccetera però il cuore logico è dentro questo singolo circuito che contiene tutti i circuiti che sono capaci a fare le operazioni di base o anche quelle un po' evolute sui numeri interi sui numeri reali sui valori logici sui caratteri che poi in realtà sono numeri interi contiene tutti i circuiti che servono per controllare il flusso di esecuzione quindi quando scrivo if quando scrivo while le istruzioni che devo eseguire seguono un percorso seguono un percorso diverso quindi saranno dei circuiti che capiscono che il flusso di esecuzione non è sempre dalla prima riga all'ultima ma può tornare indietro oppure saltare dei pezzi e poi contengono i circuiti per andarsi a collegare alle varie interfacce tipo circuiti che sono capaci a parlare sulla porta USB circuiti che sono in grado di leggere i segnali di un microfono quelli che si collegano allo schermo e così via normalmente dal punto di vista logico ma poi lo vediamo più avanti il microprocessore fa i calcoli e poi memorizza prende e salva i dati nella memoria esterna poi per ragioni che è esterna al microprocessore stesso poi per ragioni di efficienza lo vedremo verso la fine di questo argomento un po' di memoria in realtà è anche dentro al microprocessore stesso ma per il momento facciamo finta di no allora questo microprocessore come è fatto dentro dal punto di vista logico dal punto di vista logico il valore diciamo così del microprocessore sta in quella che viene detta la CPU Central Processing Unit poi a bordo e questo è quello che fa veramente i calcoli poi a bordo del microprocessore visto che c'è spazio visto che ci stava allora mettono a bordo anche delle interfacce che ne so interfacce USB interfaccia V di fare la scheda grafica cose di questo genere e anche una piccola quantità di memoria però queste diciamo così dal punto di vista operativo non servono non sono fondamentali all'esecuzione delle istruzioni quindi per il momento mettiamole un po' da parte ci sono ma non fanno fanno parte del microprocessore ma non partecipano direttamente all'esecuzione dei programmi mentre invece entriamo ancora dentro il blocco CPU quello che prima nella serie precedente era giallo ci entro dentro e vediamo come è fatto e vedere come è fatto ci aiuta a capire come fa un calcolatore a eseguire i programmi allora dentro la CPU è divisa a sua volta in due parti ok quindi abbiamo preso una scatola del computer abbiamo tolto tutto tranne il microprocessore nel microprocessore abbiamo tolto tutto tranne la CPU e adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro ok quindi è una cosa che pesa mezzo chilo o di più e siamo arrivati a una cosa che è metà di un'unghia cosa c'è lì dentro c'è una unità di controllo e un'unità operativa unità di controllo questa qua in rosso unità operativa il blocco di destra l'unità di controllo comanda l'unità operativa fa questi due ovviamente sono in stretto contatto l'unità operativa è quel blocco di circuiti qui stiamo parlando di circuiti elettronici digitali che sa fare le operazioni cioè quando noi abbiamo imparato a manina a fare la somma tra numeri in complemento 2 ecco qua dentro dentro questo blocco azzurro c'è un'arità aritmetica che a livello circuitale prende dei fili elettrici su cui c'è un numero un addendo altri fili elettrici su cui è codificato in binario un altro numero e calcola il risultato della somma o della sottrazione o della moltiplicazione o altre operazioni di base si chiama unità aritmetico-logica perché è in grado di fare le operazioni aritmetiche quindi le 4 operazioni di base le potenze eccetera tra numeri interi e le operazioni logiche le operazioni logiche sono AND OR NOT i confronti maggiore minore eccetera tutte quelle operazioni vengono fatte da quei circuiti che qua sono disegnati in azzurro è un po' come la calcolatrice quella banale della scuola elementare che aveva i 4 tasti più o meno per diviso quello era un circuito che era capace a fare quelle operazioni lì ok quindi il tasto più corrisponde a una parte di questo circuito poi c'è un'altra parte questa che qui è chiamata floating point unit che è dello stesso tipo cioè sa fare le operazioni ma sui numeri reali e la codifica di numeri reali l'abbiamo vista velocemente la volta scorsa è un po' più complicata e quindi i circuiti per elaborare i numeri reali sono più complicati sono diversi digiunti rispetto a quelli per lavorare con i numeri interi quindi ci sono delle unità aritmetiche una o più unità aritmetiche per lavorare con i numeri interi e una o più unità aritmetiche che sono invece pensate per lavorare con i numeri reali la codifica è completamente diversa e quindi anche la circuiteria che le gestisce sarà completamente diversa queste sono le operazioni diciamo così le parti di circuito che sanno fare le operazioni è come se qualcuno avesse insegnato quei circuiti a fare l'operazione di somma sottrazione in colonna che abbiamo imparato a fare noi a mano sanno fare sanno fare una somma ma su che numeri la fanno questa somma? così come la calcolatrice ha il tastino più ma prima di premere il tastino più devi mettere i numeri che stai sommando allora queste unità ritmetiche sono in grado di fare operazioni tra numeri che sono salvati sono memorizzati all'interno di questo blocco rosa di registri registri altro non sono che tante piccole celle di memoria ciascuna delle quali contiene un dato e sono le uniche celle di memoria a cui l'unità ritmetica può accedere direttamente sono pochi registri normalmente su un calcolatore 20 100 pochi rispetto alla quantità di dati che tu puoi voler memorizzare i dati guardiamo questa freccia gialla i dati veri del programma sono memorizzati nella memoria che approfondiremo tra un po' che sta fuori dalla CPU ma dentro la CPU c'è una piccola quantità di memoria direttamente collegata alle unità ritmetiche che è quella da cui l'unità ritmetica può pescare le operazioni quando prima ho detto c'è un circuito che su alcuni fili riceve l'addendo numero 1 su altri fili riceve l'addendo numero 1 da dove arrivano questi fili? da questi registri ma davvero ci sono questi fili non è solo una metafora quindi se io voglio fare un'operazione 3 più 5 dovrò in qualche modo mettere dentro uno di questi registri il numero 3 dentro un altro di questi registri il numero 5 e dire all'unità ritmetica fai la somma fai l'operazione di somma tra il valore contenuto nel primo registro e il valore contenuto nel secondo registro l'unità ritmetica logica se le dicessi questo lei sarebbe felice mi fa la somma poi però ancora un pezzo il risultato dove lo mette? allora dovrò dire anche all'unità ritmetica logica per favore il risultato mettimelo in questo altro terzo registro oppure sovrascrivi nel primo registro perché tanto non mi serve più quindi l'unità ritmetica logica sa fare le operazioni per fare un'operazione ha bisogno di 4 informazioni i due addendi l'operazione da fare e dove mettere il risultato sapute queste 4 cose lei fa ok? idem per l'unità in floating point solo che lei lavora con numeri reali anziché numeri interi ma la logica di funzionamento è lo stesso quindi in questo blocco qua dell'unità operativa abbiamo tutto ciò che ci serve per fare le operazioni e salvare i dati su cui stiamo lavorando i dati su cui stiamo lavorando in questo momento se dobbiamo fare una serie di somme con tanti dati non ci staranno tutti nei registri e quindi ci mettiamo qua dentro solo quelli che mi servono in questo istante gli altri saranno nella memoria memoria centrale del calcolatore che avrà giga e gigabyte di ram memoria ram la chiameremo memoria ram tra un attimo in cui ci stanno tutti i dati che ci servono e quindi esiste la possibilità ovviamente di trasferire dei dati dai registri della memoria della memoria ai registri il dato che sta in memoria è lì nessuno lo tocca nessuno gli fa nulla quando bisogna operare su quel dato lo prendo lo porto in un registro in modo che essendo il dato nel registro può essere elaborato dall'unità rimetica interpretandolo come un numero intero o interpretandolo come un numero reale quindi questo è lo zoom sulla unità operativa di destra sa fare le cose quindi un po' pensiamo come una calcolatrice in cui posso immettere dei dati posso scegliere un'operazione posso vedere il risultato i dati che immetto e il risultato che vedo stanno nei registri lo svolgimento dell'operazione sta nell'unità rimetica poi c'è questa parola strana di registro di flag che vedremo dopo che fa parte comunque anche lei anch'esso dell'unità operativa il motivo per cui l'unità rimetica logica e quella in floating point sono separate dicevo prima perché la circuiteria è diversa ma possiamo anche immaginarci che il tempo di lavoro sia diverso cioè fare un'operazione in floating point è più complicato e quindi richiede più tempo più nanosecondi rispetto a ai numeri interi quindi c'è scritto qua che è l'F+, per fare un'operazione di somma tra due numeri reali ci impiega un tempo che qui c'è scritto da 5,50 mettiamo in testa 10 che è un valore intermedio più o meno almeno un ordine di grandezza più lento rispetto ai numeri interi questo ci dà anche un'idea nel fatto che finché riusciamo nei nostri programmi a lavorare con i numeri interi il programma sarà più efficiente quando invece dobbiamo lavorare con i numeri reali vabbè ok ne abbiamo bisogno lo facciamo è in grado di farlo sappiamo che ovviamente la parità di operazioni che devo fare sono più lente questi registri dicevamo sono alcuni elementi di memoria molto vicino alla unità metricologica e quindi l'unità metricologica può accedere direttamente al contenuto di questi registri di fatto contengono gli operandi su cui l'operazione viene calcolata contengono il risultato dell'operazione calcolata l'unità metricologica nel suo mondo vede solo i registri un dato che sia in memoria l'alun non lo può vedere un dato che sia fuori dall'unità operativa dentro l'unità di controllo l'alun non lo può vedere ok quindi i dati vanno portati lì e poi lui lavora si dice dicevamo prima che il numero di registri è limitato pochi no qualche decina o un centinaio al massimo poi ragioneremo sul perché sono pochi perché costano quindi questo a destra è un'immagine che ci cerca di aiutare a capire come funziona questa unità metricologica no spesso viene disegnata sotto forma di freccia o non so come chiamare questa figura no una specie di trapezio giù di lì che ci ricorda che ha due ingressi e un'uscita i due ingressi sono i due operandi non li posso chiamare addendi perché potrebbero essere addendi se fosse una somma potrebbero essere fattori se fosse una moltiplicazione diciamo i due operandi due numeri su cui devo lavorare e sputa fuori un risultato e qui ci sono le quattro informazioni su cui lavoro vedete che da un lato entra un operando dall'altro lato entra un altro operando da sotto entra l'informazione devi fare la somma e da destra destra nel disegno non nel circuito da destra esce fuori il risultato il risultato il quale se seguiamo la riga rossa andrà a finire dentro un registro ok? quindi la vita dell'unità di metrica logica è estremamente monotona ogni volta si aspetta che qualcuno le dica che operazioni deve fare più meno per diviso maggiore minore confronto and not or eccetera operazioni di base da quale registro qui facciamo vinta che ci sono 32 quindi dallo 0 al 31 da quale registro prendere l'operando 1 da quale registro prendere l'operando 2 e in quale registro metter il risultato questa è la vita dell'unità di metrica logica fa solo quello potremmo chiederci ma chi è che le dice queste cose ce lo chiediamo tra un attimo lei è contenta se qualcuno le dice che operazioni deve fare da quale registro prendere l'addendo 1 da quale registro prendere l'operando 2 e in quale registro mette il risultato allora a quel punto lo fa lo fa e salva nel registro destinazione il valore numerico del risultato pensiamo numeri interi per ora ma sul floating point è uguale in più oltre a calcolare il valore numerico del risultato l'unità di metrica logica ci dice anche com'è andata ti è piaciuto ma si dai questa somma mi è piaciuta mi è divertita no mi dice com'è andata nel senso che il risultato può aver dato overflow oppure no il risultato di un confronto operando 1 è maggiore o uguale operando 2 il risultato può essere sì o no operando 1 è uguale operando 2 sì o no tra l'altro come si fanno i confronti si fanno sottrazione se io devo confrontare due numeri interi in particolare sottrago il primo meno il secondo e vado a vedere il segno del risultato negativo nullo positivo quindi in molti casi non mi serve solo conoscere il valore numerico del risultato perché magari quell'operazione lì ha dato overflow e quel valore numerico lì è sbagliato oppure non mi serve affatto conoscere il valore numerico del risultato cioè se io devo vedere se 9 è maggiore di 2 mi interessa sapere che la differenza 9 meno 2 è positiva e non è nulla e non è negativa poi quanto valga questa differenza non me ne frega niente quindi quando voglio fare un confronto in realtà per fare un confronto devo fare una sottrazione il cui risultato non mi interessa se non per il segno che ha allora mentre l'unità medicologica fa delle operazioni le informazioni più curiose più interessanti sull'operazione che ha appena fatto le salva in un registro speciale che si chiama registro dei flag flag nel senso di bandierina bandierina può essere alzata o abbassata una luce può essere accesa o spenta quel registro lì contiene tanti bit ogni bit ha un significato diverso ad esempio nel registro dei flag ci sarà sicuramente un bit che mi indica se l'operazione precedente ha dato come risultato zero che mi dice un altro bit che mi dice se l'operazione precedente ha dato come risultato un numero negativo quindi il bit di segno del risultato un altro mi indica se l'operazione precedente ha dato un overflow assumendo che i numeri fossero codificati in complemento 2 poi qua non c'è una slide ma ci sarà sicuramente un altro bit che mi dice se l'operazione precedente ha avuto come risultato un riporto un carry in uscita del bit più significativo che è sinonimo di overflow nel caso in cui i numeri in realtà fossero in binario pure non in complemento 2 e un'altra manciata di informazioni di questo genere tipicamente c'è un bit che mi dice se il numero il risultato aveva un numero pari o dispari di 1 mi serve in operazioni diciamo così di telecomunicazioni avere il numero la parità o la disparità del numero di bit ma sono meno interessanti quindi la ALU in realtà produce due cose il risultato dell'operazione e alcune informazioni che mi dicono com'è andata questa operazione il risultato viene salvato in un registro o in alcuni casi neanche perché se non glielo chiedo non mi serve e invece l'effetto dell'operazione viene sempre salvato in questo registro in più che non è disegnato nella figura precedente che prende il nome di registro dei flag che è una sorta di informazioni sul risultato non tanto sul risultato ma sull'operazione che è stata svolta mentre svolgo l'operazione mi salvo alcune informazioni su che cosa è successo dimmi ma se già a partire dalla ALU sappiamo se un'operazione darà un overflow perché poi si genera dei complessi per i quadrati con overflow che magari in alcuni programmi non viene rilevato allora giustamente lui dice ma se già la ALU sa che una certa operazione ha dato overflow perché non pensa non avviene non si genera subito un errore si blocca il programma ma allora per tanti motivi primo motivo è che la ALU fa le operazioni e non se ne preoccupa del motivo per cui vengono fatte quindi io faccio il mio lavoro ti dico che c'è stato un problema poi vedi tu ognuno fa il suo pezzo di lavoro ma anche perché la ALU per come è fatta non sa se i numeri che gli sto dando sono in complemento 2 in binario puro e quindi se fossero in binario puro dovrebbe usare un criterio per l'overflow cioè il carry se fossero in complemento 2 deve usare un criterio diverso per l'overflow cioè i segni e come fa a sapere no? o magari quelle operazioni che sto facendo non sono neanche numeri binari ma sono semplicemente sequenze di bit che sto manipolando in un certo modo quindi la ALU ha il compito di fare le operazioni dirti che risultato ha avuto poi sei tu chi ha commissionato l'operazione che deve sapere se in quel contesto la condizione di orsolo è un problema oppure è normale è atteso se si bloccasse il programma tutte le volte che è un ALU da un orsolo saremmo fregati perché a volte ne dico un'altra io devo sommare i numeri su sapete che Python vi dicevamo i numeri interi sono illimitati ok? quindi non ho un numero massimo intero che posso rappresentare in Python ovviamente nel calcolatore avrò 64 bit e quindi internamente dentro un registro del calcolatore avrò 64 bit la ALU sarà in grado di fare le somme tra numeri di 64 bit al massimo cosa capita se in Python scrivo un numero grande che richiede 80 bit? eh l'ALU non è capace a sommare il numero di 80 bit lei 64 ne ha che già sono tanti capite 64 sono già 4 miliardi di miliardi però magari è un numero più grande allora cosa farà l'ALU l'AMIS anzi in questo caso il compilatore Python prende un numero di 80 bit e dice senti allora facciamo prima i 64 bit più bassi poi sommiamo i 64 bit più alti e tra l'uno e l'altro vado a vedere se c'è un riporto dei 64 bit più bassi e quelli più alti lo devo sommare allora in quel caso l'operazione di somma dei 64 bit più bassi dà un riporto che però viene assorbito perché subito dopo faccio la somma dei 64 bit più alti non dovrebbe se bloccassi il programma così non riuscirai mai a fare delle somme su dei numeri che sono più lunghi di quelle che l'ALU è in grado di gestire è giusto che non sappia ok sappiamo noi come usarla e in un certo momento l'operazione appunto di Kerry va bene che ci sia mi serve saperlo perché mi serve per diciamo così influenzare correttamente l'operazione successiva dimmi ciascun pezzo del risultato sì sarebbe due occuperebbe se io devo sommare di un numero di 80 bit il primo addendo in realtà occupa due registri il secondo addendo ne occupa due il risultato ne occuperà due certo e quindi è un modo mio mio in questo caso facciamo un esempio del compilatore Python che fa questo lavoro qui per noi per gestire per gestire dei numeri più grandi rispetto a quelli che la CPU da sola sarebbe in grado di gestire oh ma adesso noi facciamo i signori perché parliamo con numeri 64 bit e fatichiamo anche a inventarci perché mai dovremmo aver bisogno di più bit ma tenete presente che questa architettura qua vale da quando i calcolatori avevano 8 bit cioè i primi calcolatori avevano una ALU da 8 bit dei registri da 8 bit e quindi cioè con 8 bit scrivi i numeri fino a 127 poi ti fermi in complemento 2 e quindi questo giochino qua di fare spezzare un numero su più byte da 8 bit ciascuno e fare i calcoli a pezzi era fondamentale no? nei primi calcolatori e molti microcontrollori perché i computer non sono solo il personal computer o gli smartphone ma è anche ciò che sta dentro la rotella del microonde o della lavatrice lì dietro c'è un computer allora quello lavora ancora oggi a 8 bit quindi le operazioni che fa le fa in questo modo quindi quello è la potenza di calcolo minima a livello hardware è in grado di fare queste cose ci serve lavorare su numeri più complicati bene lo carichiamo sulle spalle del software sarà il software che chiede all'hardware di fare l'operazione una sequenza di operazioni per ottenere quel risultato che l'alu da sola in hardware non è in grado di fare la calcolatrice di prima che dicevo delle 4 operazioni che avevate nelle scuole elementari aveva normalmente 8 cifre e se devi fare la somma di numeri di 10 cifre o 12 cifre come fai? la fai a pezzi e ti fai riporto a mano si può no? l'importante è avere il meccanismo di base poi lì sopra si costruisce l'informatica è tutta una piramide inversa giù alla base c'è il bit un bit poi dal bit costruisco il byte dal byte costruisco l'aritmetica dall'aritmetica costruisco i numeri interi dai numeri interi costruisco i numeri reali per cose super fighe di intelligenza artificiale ma alla fine sotto sotto c'è un circuito che memorizza un bit e tutto sopra si costruisce tramite livelli di astrazione successivi in cui ciascun livello sfrutta ciò che sa fare il livello inferiore e permette di fare cose in più ecco eravamo rimasti in sospeso con una domanda ah bello l'Alu sa fare queste cose ma chi gli dice di farle o meglio chi gli dice che cosa fare quando nel nostro esempio della calcolatrice c'è il tastino più il tastino meno ma chi è che li pigia questi tasti è l'unità di controllo l'unità di controllo contiene i circuiti che hanno come missione come scopo quello di indicare all'Alu e ai registri che operazioni devono fare quindi a un certo punto l'unità di controllo dice all'Alu adesso fai una somma poi dice all'Alu adesso fai una moltiplicazione ovviamente dice ai registri che il registro 3 per favore mandi il suo valore all'operando 1 e il registro 7 per favore mandi il suo valore all'operando 2 e il registro 12 per favore vada a leggere il risultato che esce dall'Alu questi comandi le 4 cose che vi ho detto prima operando 1 operando 2 risultato e operazione sono le informazioni che l'unità di controllo dà all'unità operativa fornisce l'unità operativa quindi è un piccolo despota che dice che operazioni deve fare su quali valori operare e si guarda bene dal farlo ordina che venga fatto l'unità di controllo non contiene i dati non li vede manco i dati quella roba sporca lavoro da fare somme, situazioni, bit io do gli ordini ok? quindi l'unità operativa tutta l'unità operativa quindi Alu e registri sono lì in potenza in potenza cioè potenzialmente possano fare cose ma finché qualcuno non gli dice che cosa fare stanno fermi ogni tanto l'unità di controllo dice all'unità operativa fai questa operazione e lei la fa senza sapere perché senza sapere cosa avviene prima cosa avviene dopo a che cosa serve ok? in realtà questa freccia qua è un direzionale ma in realtà ci sarebbe anche una piccola frecciolina all'indietro che riporta indietro all'unità di controllo il registro dei flag perché all'unità di controllo quando dice fai la somma può interessare all'unità di controllo sapere se quella somma è andata bene se ha fatto un confronto può interessare all'unità di controllo sapere se il confronto è stato vero o falso quindi tutti i dati il cammino dei dati in inglese lo chiamano il data path cioè il cammino il percorso che fanno i dati è tutto a destra dalla memoria ai registri dal registro all'alu il risultato dall'alu ai registri dal registro alla memoria l'unità di controllo è tagliata fuori dai viaggi che fanno i dati l'unica informazione che riceve l'unità di controllo è eventualmente i flag sulla base delle quali l'unità di controllo può decidere magari questa operazione va ripetuta oppure no oppure devo fare un salto avanti un salto indietro nel codice perché una certa if era vera o falsa ok ah quindi l'unità di controllo è quella che comanda ma come fa l'unità di controllo a sapere cosa comandare non lo sa non lo può non lo deve non vogliamo che lo sappia cioè io non è che compro un computer e dentro l'unità di controllo che sa cosa fare perché io ci voglio caricare il software che voglio io sul mio computer scaricare le app che voglio scrivermi i programmi che voglio e quindi l'unità di controllo sarà bene che faccia fare l'unità operativa le operazioni ma le operazioni che servono al mio software non quelle che ci ha messo dentro chi ha costruito il computer e allora l'unità di controllo come fa a sapere quali comandi dare all'ALU se lo fa dire dal software quindi chi comanda davvero l'unità operativa è quella che dà gli ordini ma chi comanda chi decide quali ordini dare è il software il software poverino è passivo lui il software è fatto da una serie di istruzioni che stanno in memoria quando scrivo un programma le istruzioni che io scrivo una dopo l'altra sono in memoria ma sono lì tranquille fino a quando non faccio run quando faccio run del programma cosa succede è che sto dicendo alla CPU di iniziare ad eseguire le istruzioni del software cioè il programma finché l'ho scritto lì lo guardo è bellissimo ma non fa niente quando faccio run le istruzioni che ho scritto una dopo l'altra vengono eseguite da chi? dalla CPU come? grazie al fatto che l'unità di controllo le prende uno per uno e dice all'unità operativa di fare l'operazione che è stata specificata così detto in modo semplificato ma in pratica come succede? beh in pratica l'unità operativa anche lei è piccolina anzi è molto più piccola del resto e si basa essenzialmente su due registri e un po' di logica di controllo da cui escono comandi ok? questa freccia comandi che esce dall'unità di controllo è questa freccia qui che va dall'unità di controllo verso l'unità operativa questa freccia stato che entra nella unità di controllo sarebbe il contenuto del registro dei flag che arriva dall'unità operativa indietro all'unità di controllo quindi queste due frecce sono la comunicazione che avviene tra l'unità di controllo e l'unità operativa ti dico cosa fare mi dici come è andata ti ridico un'altra cosa da fare mi ridici come è andata e così per sempre lo scopo nella vita dell'unità di controllo è generare questi comandi per l'unità operativa il cui scopo nella vita è eseguire questi comandi un po' triste è vivervi dentro come fa l'unità di controllo a decidere quali comandi dare abbiamo detto glielo dice il software in pratica cosa vuol dire i software sono istruzioni scritte in memoria quindi immaginiamo nella nostra memoria che ci sono una serie di caselle che conterranno i dati l'abbiamo detto prima i dati su cui lavoro i numeri che ho inserito e un'altra serie di celle di memoria che invece conterranno il programma che abbiamo appena finito di scrivere che dovranno lavorare su questi dati l'unità operativa dovrà leggere e scrivere ovviamente le celle che contengono i dati l'unità di controllo invece è interessata alle celle di memoria che contengono il programma le istruzioni del programma dentro l'unità di controllo c'è un registro che qui è indicato con PC sta per program counter il contatore di programma questo program counter contiene un numero intero che corrisponde all'indirizzo di memoria alla cella di memoria dentro cui c'è la prossima istruzione da eseguire quindi quando io accendo il computer questo registro program counter parte da zero facciamo finta che parte da zero il che vuol dire che la CPU per prima cosa dovrà eseguire l'istruzione che è scritta nella cella di memoria di indirizzo zero di indice zero quindi cosa fa l'unità di controllo usando il valore del program counter chiede alla memoria di leggere il valore di quella cella di memoria questa cella di memoria abbiamo detto una dopo l'altra contengono il nostro programma quindi legge la prima istruzione nel mio programma questa istruzione la memoria diciamo così la estrae e viene letta dall'unità di controllo viene memorizzata in un altro registro che qui l'ho chiamato IR sta per instruction register cioè il registro che contiene l'istruzione quindi ho due registri uno mi dice qual è l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire l'altro mi dice qual è il valore in bit come è codificato in bit l'istruzione effettiva da eseguire quindi il primo mi dice istruzione zero cos'è l'istruzione zero è una somma l'istruzione uno alla cella di memoria numero uno ci sarà una codifica binaria tutto è binario per forza che racconta che devo fare un confronto e così via quindi accendo il computer conosce qual è l'indirizzo da cui eseguire l'istruzione chiede alla memoria senti ma tu all'indirizzo 312 cos'hai la memoria che non sa niente non capisce cosa sta facendo ma obbedisce che all'indirizzo 312 c'è una sequenza di bit e la restituisce l'unità di controllo la salva in questo registro quella sequenza di bit codifica un'istruzione quindi rappresenta le operazioni da fare e chi è che capisce questa codifica dell'istruzione questa logica di controllo che è scritta qua sotto che è descritta qua sotto e questa logica di controllo capisce l'istruzione che è 1011001 vuol dire fai la somma e quindi darai i comandi all'unità operativa per fare la somma quindi esiste tutta una codifica delle istruzioni che vengono scritte nella memoria del calcolatore quando scriviamo un programma che non è la codifica testuale del python if spazio a maggiore b due punti ma è una codifica binaria con operazioni molto più di basso livello molto più semplici che sono specifiche di quella particolare unità di controllo anzi di quella particolare cpu questa cpu legge questi bit li decodifica con la convenzione di quella cpu lì quindi quando voi avete che ne so un calcolatore vedete processore intel è in grado di capire di eseguire il set di istruzioni dell'intel se avete un calcolatore con processore arm come nei cellulari o in alcuni mac allora esegue una serie è in grado di capire una serie di istruzioni codificate in modo completamente diverso cioè parla proprio una lingua completamente diversa sempre di 0 e 1 ma interpretate in un modo diverso e con operazioni di base diverse ma questo ci pensa lei quindi la vita dell'unità di controllo è sempre si svolge sempre secondo tre fasi quello che chiamiamo il ciclo di esecuzione delle istruzioni l'unità di controllo deve dare i comandi all'unità operativa per sapere quali comandi dare deve sapere quali istruzioni eseguire per sapere quali istruzioni eseguire deve leggere la tua memoria allora la prima fase è quella di reperimento dell'istruzione fetch fetch vai a prendere qui ho usato una notazione abbreviata per dire dato il program counter accedo alla memoria all'indirizzo del program counter indice 0 1 2 3 4 qual è la cera di memoria che vado a leggere la memoria mi istituisce un valore che vado a salvare memorizzare dentro l'instruction register prima operazione l'unità di controllo che comanda comanda la memoria di dargli il dato che sta nella cella il cui indirizzo è dato dal valore attuale del program counter la memoria esegue butta fuori questo valore e io me lo salvo nell'instruction register prima fase fetch scripiamo questa per un attimo andiamo alla seconda fase seconda fase decodifica la decodifica va a guardare questo punto sono quei circuiti azzurrini dell'attuale precedente va a vedere la codifica binaria che gli è arrivata nell'instruction register e dice ah sta cooperazione qua che cos'è un confronto una somma una moltiplicazione ma ci saranno alcuni bit che mi dicono che operazione devo fare e tra quali valori devo farla tra due valori che non registro tra un registro una costante numerica tra un valore che c'è in memoria è tutto codificato lì in quel bit quella circunteria va a leggere questi bit e capire per eseguire quell'istruzione quali comandi deve dare l'unità rimeticologica alcune istruzioni saranno semplici più semplici e quindi richiederanno un comando solo dato l'unità rimeticologica altre istruzioni magari sono più complicate e richiederanno più comandi fai questo poi fai l'altro però sono tutti i comandi che l'unità di controllo dà per implementare l'esecuzione di quell'istruzione che è codificata in quel modo quindi la seconda fase dopo che ho letto nell'instruction register la codifica binaria dell'istruzione da eseguire la guardo la capisco la decompongo il termine giusto la decodifico e determino quali sono i comandi da mandare all'unità operativa e quindi passo alla terza fase quella di esecuzione vera propria delle operazioni in cui l'unità di controllo incrocia le braccia perché oramai ha mandato i comandi all'unità operativa ed aspetta che l'unità operativa finisca ormai ti ho detto cosa fare fallo e quando è finito me lo dici però nel frattempo non posso far altro devo aspettare un attimo che le operazioni che devi fare tu la faccia quindi la fase di esecuzione l'unità di controllo è ferma da aspettare mentre l'unità operativa sta eseguendo le operazioni che sono state definite dai comandi che l'unità operativa ha determinato nella fase precedente quindi è bellissimo che l'unità di controllo preleva un'istruzione in memoria centrale va bene la interpreta e poi la esegue ma questo esegue un po' perché non è l'unità di controllo che la esegue è l'unità operativa che la esegue in realtà l'unità di controllo semplicemente sta aspettare che che arrivi il risultato e quando il risultato arriva si ricomincia da capo si ricomincia da capo a prendere un'altra istruzione decodificarla e a dire all'unità operativa di eseguirla e quando ho fatto questo prendo la prossima istruzione la leggo dalla memoria la decodifico e chiedo all'unità operativa di eseguire i comandi che servono per eseguire quell'operazione e così via in questo giro qua miliardi di volte al secondo l'unità di controllo che è la parte più intelligente del computer fa questo tutta la vita da quando lo accendi a quando lo spegni quando sogliete corrente tira un sospiro di sollievo perché altrimenti sta facendo questo giro miliardi di volte al secondo poi attenzione quando io ho eseguito un'istruzione quando torno su a eseguire l'istruzione successiva dovrò fare in modo che non vado ad eseguire di nuovo la stessa istruzione di prima ma che il programma vada avanti e a questo serve quest'altra incremento che c'è scritto qua del program counter quindi io dopo che ho letto nella fase di fetch nella fase di riperimento dell'istruzione dopo che ho letto il contenuto di una certa cella di memoria incremento normalmente il valore del program counter in modo che alla prossima volta al prossimo giro alla prossima istruzione di eseguire il valore del program counter che mando alla memoria non è più quello di prima ma è la cella successiva e poi la cella successiva ancora il fatto che il programma venga eseguito dalla prima all'ultima istruzione in ordine la prima la seconda la terza la quarta è implementato da questo semplice incremento prima vado a leggere quella cella nella prima cella bene poi incremento il valore la prossima volta che torno su senza ricordarmi cosa ho fatto prima perché lui non è che ragiona o si ricorda o capisce ma vede un valore incrementato lo manda alla memoria la memoria gli manderà indietro l'istruzione che c'era dopo rispetto a quella che ha appena eseguito e quindi per sua natura il programma viene eseguito sequenzialmente sulle cellule di memoria seguendo le cellule di memoria tranne il caso in cui nel nostro programma ci siano delle istruzioni di salto che fanno cambiare l'ordine di esecuzione quindi un if un while un for che fanno sì che quando le incontro la prossima istruzione non è detto che sia quella dopo ma magari quella dell'else o magari devo tornare indietro ma questo me ne accorgo nella fase di esecuzione la fase di execute in alcuni casi può cambiare il valore del program counter facendolo saltare in avanti o facendolo tornare indietro e quindi se nella fase di execute si va a modificare il valore del program counter quando passo all'istruzione successiva l'istruzione successiva non è più quella consecutiva nella memoria ma sarà in un'altra cellula di memoria che abbiamo deciso quindi siamo qui c'è un esempio con un'ipotetica codifica totalmente inventata e totalmente irrealistica di un programma all'interno della memoria qui abbiamo la memoria centrale qui sono gli indirizzi delle cellule di memoria qui c'è il program counter e l'istruzione register allora immaginiamo che nel program counter ci sia ad esempio dunque il valore è 1000 ok allora cosa succede che nella fase di fetch la unità di controllo chiede alla memoria dammi l'istruzione all'indirizzo 1000 quindi questo numero 1000 viene usato per identificare un indirizzo di memoria tra i tanti la memoria ovviamente avrà degli indici come le liste cioè come le stringhe ogni carattere nella sua posizione e questo è il suo contenuto e quindi questo contenuto viene letto e salvato nell'instruction register quindi in questo instruction register ci sarà scritto 1 0 1 0 puntini 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 1 0 0 1 questa è la fase di fetch poi avremo la fase di decodifica in cui questa cosa qui qui c'è scritto x uguale 2 come nota supponiamo che questa decodifica binaria rappresenti il fatto che bisogna mettere x uguale 2 e x magari è memorizzato nel secondo registro quindi vorrà dire che io devo dare i comandi per l'alu che il comando per l'alu i comandi devono essere ad esempio il fatto che devo spostare move ecco un'operazione che può fare l'alu scusate non è solamente la sommastrazione ma la copia dei dati copio un dato da un registro ad un altro che cosa un operando è il 2 l'altro operando è il registro 1 ad esempio dentro cui penso di mettere x e l'operazione è questa e il risultato in questo caso è solo il registro 1 qui sto inventando cioè sapendo capendo cosa dice questa codifica capisco quali sono i segnali da mandare all'unità operativa fase di decode poi mando questi segnali e aspetto fase di execution nel frattempo questo 1000 l'ho corretto è diventato 1001 quindi quando finisco la fase di decuzione mi ritroverò di nuovo in questa condizione con qua scritto 1001 nel registro 1 è finito il valore 2 chissà perché chissà come ho fatto non lo so l'ho dimenticato la cpu non lo sa non si ricorda non capisce esegue e quindi la cpu dice vabbè mi serve eseguire istruzione che sta nella cellula 111 cara memoria mi dai che cosigni nel 111 sì ho questo allora 1010 1001 cosa significa questo? è y uguale a x quindi di nuovo uno spostamento move di dati dal registro 1 in cui metto x al registro 2 in cui metto y ok mando il comando all'alu e aspetto nel frattempo ho incrementato il contatore da 111 a 122 e così via ok è chiaro che il lavoro di decodifica qua richiede di capire cosa vogliono dire questi bit e capire quali sono i comandi da dare all'alu è altamente specifico ogni cpu ha il suo linguaggio macchina diverso da quello delle altre cpu i vari produttori hanno sviluppato cpu che lavorano con linguaggi macchina binari molto diversi e allora quello che noi sappiamo abbiamo visto a livello di flowchart a livello di python si mappa a questo livello hardware quindi ogni operazione che facciamo somma sottrazione indicizzazione pensate quando prendiamo una stringa e andiamo a prendere il quinto carattere di una stringa e la stringa sarà memorizzata in celle di memoria successive e per prendere il quinto carattere dovrò prendere l'indirizzo di memoria di dove ho iniziato a memorizzare la stringa e somma di 5 per trovare l'indirizzo di memoria in cui si trova il quinto carattere e quindi sono operazioni tra l'indirizzo di memoria poi chiederò alla memoria di darmi quel carattere e lo uso lo vedo quindi ogni operazione che scriviamo ad alto livello in python alla fine si trasforma in una serie di operazioni più di basso livello che sono scritte in codice macchina che a loro volta l'unità di controllo tramite l'operazione di decodifica trasforma in operazioni ancora più elementari che sono quelle singolarmente eseguibili dall'ALU quindi l'ALU fa operazioni di base le istruzioni macchina sono un pochino più evolute perché magari una singola istruzione macchina come dicevo può richiedere più comandi da dare all'ALU quindi mette già insieme qualcosa di un pochino più complicato e poi il resto lo fa il software quando io scrivo un'espressione complicata in python con le parentesi logaritmi eccetera questa viene a sua volta tradotta in un'istruzione in python magari 200 istruzioni macchina perché le istruzioni macchina sono poverine più semplici ma le categorie di istruzioni sono le stesse l'input l'output la somma il trasferimento dati la ricerca i confronti avvengono su una scala più piccola il calcolatore sarebbe felicissimo di lavorare così se foste nati 80 anni fa i primi calcolatori c'erano il programma lo scrivevi così nella memoria ma andandoci mettere dentro gli 0 e gli 1 sapendo tu qual era la codifica fisicamente con gli interruttori poi degli interruttori si passate le schede perforate le schede perforate la tastiera sempre lavorando a livello di codice macchina ma poi inventandosi via via e dei linguaggi di programmazione che ci permettessero di capire cosa stavamo scrivendo e poi traducessero automaticamente in codice macchina per noi fino ad arrivare oggi ma alla fine la macchina non è cambiata continua a lavorare così la semplificazione e l'evoluzione dei linguaggi di programmazione anche della capacità nostra di imparare la programmazione è tutta nel mondo del software le istruzioni dei processori Intel di oggi l'instruction dei processori di Intel di oggi sono gli stessi che c'erano negli anni 80 add move sum jump eccetera sono le stesse vabbè negli anni 80 il processore era 8 bit adesso è nel 64 ma le istruzioni sono le stesse ciò che è cambiato è tutto il software che sta sopra il sistema operativo i compilatori i linguaggi che sono nati nel frattempo anche la velocità di esecuzione è cambiata ma la natura dell'elaborazione è sempre data da questi tre maldetti passi ripetuti all'infinito con degli ordini dati a questa unità operativa che esegue gli ordini che arrivano senza capire perché e questo è il lato quando si parla del cuore del calcolatore la CPU questo è il succo di ciò che fa la CPU unità di controllo unità operativa da sole non farebbero nulla se non ci fosse il software che è scritto in memoria quindi il software lo dobbiamo comunque scrivere noi altrimenti un computer senza software quando lo accendi lui chiederebbe la memoria cosa c'è nell'indirizzo 0 nella cella dell'indirizzo 0 e chissà che istruzione c'è se nessuno l'ha messo dentro il calcolatore non sa cosa fare ok però la combinazione dell'unità operativa che fa le operazioni unità di controllo che dà i comandi ed il software che dice all'unità di controllo che permette all'unità di controllo di sapere quali comandi dare fa funzionare il calcolatore e questo era la CPU cosa c'è dentro la CPU CPU unità operativa ALU unità in floating point più unità di controllo poi queste non possono vivere ma ci vediamo dopo senza la memoria in cui memorizzare i dati in tutto questo abbiamo finora tralasciato il fattore tempo cioè abbiamo detto che cosa avviene ma con che velocità avviene con che tempistiche avviene come fa l'unità di controllo a sapere che l'unità operativa ha finito un'operazione come fa l'unità operativa a sapere che un certo dato che sta leggendo della memoria è arrivato perché ci vorrà un certo tempo per leggere i dati allora all'interno del laboratore esistono dei segnali di temporizzazione interna segnali vuol dire dei fili con dentro un segnale elettrico che ha andamenti di questo genere che dicono ai vari pezzi del calcolatore quando devono lavorare ci sono nel calcolatore di oggi ci sono molti segnali di temporizzazione ma facciamo vinta che ce ne sia uno solo tanto il principio è lo stesso un segnale che viene chiamato di segnale di clock un orlogio tac 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 etichetta a frequenza costante o periodo costante secondo che vi piaccia pensare la frequenza o il periodo e supponiamo che questo clock arrivi all'unità di controllo allora in questo caso dicevamo fetch decodifica esecuzione allora al primo impulso di clock gli dice adesso devi fare l'operazione di fetch e poi incrementare il program counter poi qua dovrai fare l'operazione di decodifica hai un tempo hai un periodo di clock per farla dopodiché alla fine di questo periodo di clock devi avere calcolato i comandi da dare e quindi nel terzo periodo di clock c'è la fase di decuzione in cui i comandi da dare li hai già calcolati e stai aspettando il risultato è il risultato che magari vai a memorizzare nel quarto clock e dal quinto sei di nuovo pronto a ripartire cioè ogni componente del calcolatore si sincronizza le proprie attività e le esegue in corrispondenza di segnali di temporizzazione degli istanti di clock in modo che anche l'unità operativa poverina sa che l'operazione la deve eseguire da qui in avanti perché prima l'unità di controllo non ha ancora preparato i comandi da darle quindi per potersi mettere d'accordo anziché avere un meccanismo sincrono guarda sono pronto vai avanti che richiederebbe un lavoro in più fanno tutti riferimento a un orologio condiviso e ciascuno sa in qualunque momento dell'orologio cosa deve fare così si sincronizzano tra di loro in questo modo i vari componenti è chiaro che più è veloce il clock più la frequenza è alta o il periodo è basso più il computer va veloce parlavo degli anni 80 i primi personal computer lavoravano con un clock mi ricordo il primo pc dell'IBM che è arrivato diciamo così nelle case di tutti il primo personal computer aveva un clock a 4,77 megahertz frequenza 4,77 megahertz quindi milioni di istanti di clock al secondo adesso quando comprate un computer lavora dai 2 ai 3 gigahertz di frequenza quindi siamo a megahertz gigahertz mille volte più veloce quindi quello che faceva il computer degli anni 80 in un ciclo di clock adesso il computer degli anni 2000 possono fare mille volte di più nella stessa unità di tempo poi in realtà è molto di più però perché non è solamente la frequenza di clock il fattore quindi man mano che la tecnologia evolve è in grado i circuiti sono in grado di fare le stesse operazioni in meno tempo quindi il computer diceva la ALU fa le stesse operazioni che faceva una volta solo che adesso le fa in un millesimo del tempo e su 64 bit anziché su 8 immaginate la potenza che abbiamo generato in più 10.000 volte di più poi i processori di oggi non hanno una ALU ne hanno 6 in parallelo che lavorano in parallelo su operazioni diverse e quindi moltiplica ancora una volta la potenza di calcolo disponibile cioè negli anni queste cose aumentano il principio di base è sempre rimasto lo stesso ma si va avanti chiaramente il clock si misura in periodi cioè in secondi 2 GHz è una frequenza che corrisponde a 0,5 nanosecondi questi sono grossomodo l'ordine di grandezza mezzo nanosecondo per fare un'operazione la ALU risponde in mezzo nanosecondo per fare un'operazione elementare quindi vuol dire potenzialmente in un secondo ne può fare 2 miliardi altre operazioni altre parti del calcolatore impiegano un numero di cicli di clock diverso per fare il loro lavoro la ALU per definizione deve essere più veloce perché tutto passa da lì la memoria è di solito più lenta qui c'è 5 ma anche di più richiede un certo numero di cicli di clock per leggere i dati le unità le operazioni in virgola mobile abbiamo detto circa 10 volte di più non c'era scritto prima da 5 a 50 cicli di clock per fare un'operazione in virgola mobile quindi tutto temporizzato proporzionato al clock dipende ovviamente da quali operazioni faccio e le operazioni richiedono un certo numero di cicli di clock per poter essere eseguite e quindi la velocità effettiva con cui eseguo quante istruzioni a secondo possono fare dipende da che istruzioni sono alcune sono più veloci altre saranno meno veloci questo esempio lo facciamo la volta prossima e vedremo anche la volta prossima il fatto che la memoria come funziona e quali sono le conseguenze del fatto che la memoria è più lenta della CPU che ci complicherà un pochino il problema ok allora oggi diciamo abbiamo finito il tempo ci continuiamo la prossima volta su questo argomento che ci sono